Siamo dunque alla pagina sportiva, ripartiamo dal Corriere dell'Umbria. Da Perugia, Sadik Stoppan si ferma, Grifo alla ripresa, l'ex Rangers Scuola Roma c'è ma è ancora privo del nulla osta. Il nordcoreano ha i box dopo 40 minuti di allenamento, problema alla caviglia, ieri assente anche Melchiorri. E poi parliamo del volley perché questa sera alle ore 20 la Sir gioca a tour per il primato, ovvero parliamo di Champions League, fase a gironi, secondo turno, Perugia in versione Colussi-Sicoma a caccia del primo posto nella pool e di Champions. I francesi sono secondi in campionato con 8 vittorie su 10. Appuntamento dicevamo stasera ore 20. Torniamo al calcio, Fere De Canio sulla gratticola, non c'è gioco, gli affigionados rossoverdi dicono la squadra è valida ma la situazione è sfuggita di mano al tecnico. Altri ancora commentano la colpa è anche dei giocatori. Intanto Diachite torna in gruppo ma resta un mistero il suo futuro in rossoverde. Restiamo in Serie C, Gubbio ha accorto, il mio Rosselli si affronta così. Oggi il Corriere dell'Umbria intervista Massimo Roscini, ex giocatore ed allenatore del Gubbio, che ha portato fino agli spareggi per salire in C nel 1986 contro la bis Pesaro di Walter Nicoletti. Ebbene, Roscini dice che l'ex allenatore e giocatore è stato anche vice del tecnico della Samb. Dice io su questa partita mi gioco il segno X, questo è il suo pronostico. E poi seconda categoria, ex Ternana, ci pensa Cardona, il presidente del Ferentillo Valnerina, chiama a sé tutti big dal passato rossoverde. E poi ancora dall'eccellenza alla legge di Castelletti, gol da ex ed esultanza. Il classe 99 ha sfidato il suo passato grazie di tutto Orvietana, l'attaccante è stato decisivo nel 2-1 per la Sisi Subasio. Andiamo a parlare di altri sport, siamo alla ginnastica. Agnese Duranti, compleanno col primo posto. La ginnasta spoletina della Nazionale Italiana festeggia la maggior età e vola a 1.478 voti per il concorso del Corriere Campionissimo 2018. Questo per il Corriere. Andiamo al messaggero, Grifo al tombolato, sfida tra big. Due società attente ai bilanci, Veneti in serie positiva da dieci partite imbattuti in casa, ma la Nesta Band ha saputo fare ancora meglio. Alla ripresa torna Mazzocchi e si rivede anche Felicioli, ancora out Cremonesi. Si ferma Kingsley, Tegola per Anne. Intanto Perugia e Cittadella, le sorprese nel confronto tra le due rose, nel pezzo tutti i dettagli del prossimo incontro. Andiamo a Terni, Fere perdonato di Achite. Il presidente Ranucci annuncia la fine della punizione. C'è stato solamente qualche problema di comportamento. Intanto il giovane Pobega è stato operato alla mano. A Roma il club Rocca Rosso Verde attacca. Serve un DS o un DG più esperto? E poi Sir, stasera all'abito da Champions, parliamo di volley. I Block Devils incontrano l'altra capolista del girone, i francesi del Tour, l'obiettivo è riuscire ad allungare. Ancora volley, ma dia 2, Monini, siamo a Spoleto. La sfida per restare tra le prime quattro del girone sarà importante, la trasferta a Santa Croce. E poi il ciclismo, Foligno, volano i ragazzi del ciclocross, il trofeo provinciale e la sfida tutto l'anno. Andiamo alla nazione che dedica un bello spazio a Mr. Nesta. È il mister del futuro. Il suo Perugia convince. Mix di grinta ed umiltà. E intanto sul grifo, quante incognite, Ann si ferma, Melchiorri va ai box. Andiamo a Terni, fere tra ritiro ed infortuni. Il caso di Achiteti e Nebanco, che prima è stato messo a lavorare a parte, poi è stato richiamato. Interrogativi sul suo futuro. Intanto Ghirelli annuncia quattro promozioni. A Gubbio, invertiamo la rotta. Notari sprona il Gubbio. In Serie D, Trestina, la strada è quella giusta, lo dicono i bianconeri di Cerbella. Ancora Serie D, siamo a Bastia Umbra, non brilliamo, gli arbitri ci penalizzano. Le parole sono del Patron e del Bastia. Ancora Serie D a Cannara, abbiamo le carte in regola per salvarci. Parla Dario Colombi. E poi la Sirin Champions, obiettivo tour. Appuntamento questa sera, dicevamo, alle ore 20 per l'incontro. Per il basket Serie C Silver, il Gualdo batte San Marino 69 a 66. Per il volley ad Orvieto, Zambelli dopo lo stop a Roma, nessun dramma. Ci fermiamo, la copertina del nostro medio. Finalmente SEP c'è, il nuovo distributore di carburanti a mercato libero a Gubbio in Via dell'Arboreto. Giornata, quella odierna, variabile, abbastanza nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Dal primo pomeriggio, aumento della nuvolosità e rotazione della ventilazione, che diventerà dai quadranti sud-occidentali, dunque aria più umida, che produrrà piovaschi su tutto il territorio, a partire però dal tardo pomeriggio. Le temperature le vedete, le minime 0,2, le massime 5,7. È davvero tutto, grazie per averci seguito. A voi una buona giornata. Grazie a tutti.